benvenuti a tutti ad una nuova lezione di italiano per tutti questa è la lezione dedicata alla regione italiana e siamo giunti nel meridione diciamo dopo avere passato il lazio molise l'abruzzo siamo diciamo in pieno meridione e andiamo a parlare della campania la regione campania come vedete si scrive con la n campania e non con la g campagna che per noi che per italiani vuol dire country vuol dire la campagna cioè l'opposto della città in questo caso il termine campagna vedremo da dove deriva l'italia è divisa in 20 regioni tutte bellissime ma molto diverse tra loro italiano per tutti vi accompagna alla scoperta delle regioni italiane per farvi conoscere meglio il loro territorio e le loro caratteristiche fondamentali la campagna vedete è questa regione qui colorata in rosa e siamo in pieno meridione in meridione insomma abbastanza inoltrato la campagna la campagna è la regione italiana con la più alta densità di popolazione la densità di popolazione è quanto è densa la l'abitabilità diciamo la il rapporto fra la superficie della regione in questo caso e quanti abitanti vivono in quella specifica regione quindi la campagna immaginate è la regione con la più alta densità di popolazione di tutta italia sembrerebbe che a milano e che a roma ci siano molti abitanti in realtà ci sono molti abitanti ma solo nelle zone metropolitane e nelle zone diciamo di campagna nelle zone a fuori dalle città e la lombardia è una zona poco popolata al contrario la campagna è molto popolata a napoli o nei centri diciamo metropolitani ma è anche molto popolata nel territorio diciamo campano e di campagna cioè nel territorio fuori dalle città è una delle regioni più visitate dal turismo internazionale il nome di questa regione ecco deriva forse dalla parola campus che significa campagna ma in questo caso con la campagna con la campagna oppure dal nome capo ania che indicava la zona intorno alla città di capua che è una città della della regione campagna appunto il capoluogo quindi la città capoluogo di regione dove c'è l'amministrazione regionale della campagna e napoli ovviamente è la più famosa e anche famosa non solo non solo in campagna ma in tutta italia in tutto il mondo e gli abitanti di questa regione sono i campani il territorio della campania è costituito per metà da colline quindi non è molto pianeggiante ma è collinoso collinare scusate collinoso il 35 per cento della regione è occupato da montagne e solo il 15 per cento da terreno pianeggiante quindi il territorio è costituito per il 50 per cento da colline collinare 35 per cento da montagne e solo il 15 è pianura pianeggiante lungo la costa in prossimità del golfo di napoli e vedete una foto qui sopra la bellezza del golfo di napoli sorge il vesuvio che è un vulcano attivo vuol dire che in realtà c'è ancora un cratere attivo sotto il vesuvio quindi sta ribollendo la lava potrebbe succedere ahimè speriamo di no come è successo già parecchi anni fa e il vulcano è alto circa 1280 metri l'area circostante è considerata parco nazionale un'altra zona campana caratterizzata da attività vulcanica è quella dei campi flegrei dove si trovano i crateri e i piccoli vulcani che emettono vapori di zolfo e acque bollenti sono tipici italiani e non solo questi diciamo sorgive di acque solforose che sono appunto vapori di zolfo solforose e acque bollenti di solito in queste zone si vanno di insediare delle terme e ci sono parecchi in italia ci sono parecchie zone dove queste acque sono salutari diciamo vengono utilizzati per vapore vengono utilizzati per dei peschi per chi ha dei problemi di respirazione problemi asmatici e vengono installate diciamo anche realizzate sono state non adesso ma sono si sono realizzati delle terme in queste zone il lago averno situato in quest'area nell'antichità era considerato l'ingresso dell'oltretomba gli antichi romani e non solo credevano che in questo all'entrata di questo lago ci fosse l'ingresso dell'aldilà cioè dell'oltretomba che era un luogo non tanto bello perché non è l'aldilà come il nostro diciamo paradiso ma era più una specie di inferno purgatorio di una zona un po tetra non esisteva un vero paradiso nell'antichità esisteva un aldilà dove era non bello come di qua ecco poi ogni ogni periodo storico ogni civiltà ha avuto la sua idea dell'aldilà però in questo caso territorialmente sappiamo che questa era la zona dove gli antichi che abitavano quelle zone non solo consideravano l'entrata dell'oltretomba dell'aldilà infatti i campi di fregrei sono noti per essere l'accesso all'aldilà le coste della campagna quindi le parti che sono limitrofe che sono vicine al mare sono molto conosciute per la bellezza dei loro paesaggi questo è noto e l'aspetto caratteristico dei loro centri abitati ricordiamo la costiera almalfitana e la costiera sorrentina quindi quella di amalfi e quella di sorrento molto rinomate per il loro interesse paesaggistico sono anche le isole dell'arcipelago campano citiamo ad esempio capri molto famosa ischia e procida sono ovviamente molto note e molto conosciute nel territorio campano ci sono sei località individuate dall'unesco come patrimonio dell'umanità tra queste troviamo le aree archeologiche di pompei e di ercolano le due città romane sepolte dall'eruzione del vesuvio nel 79 dopo cristo infatti vi dicevo speriamo non succeda come questa la foto di pompei che speriamo che non succeda come è successo nel 79 dopo cristo dove queste due cittadine sono state ricoperte poi abbiamo immagini online se andate a cercare ne trovate e comunque dei reperti archeologici di quel periodo si sono un po sparsi per tutto il mondo però quella è una sede importante perché è riconosciuta come patrimonio dell'umanità per i ritrovamenti e quello che è stato l'evento del 79 dopo cristo oltre a napoli le altre città importanti della regione campagna sono avellino benevento caserta e salerno la musica ha un ruolo molto importante nella cultura di questa regione la canzone tradizionale napoletana famosa andate a cercare su youtube troverete delle canzoni sicuramente molto famose è nata nel 1800 e ha dato vita a un repertorio di capolavori conosciuti in tutto il mondo non sono la persona adatta per mettersi a cantare in questo momento comunque vi ripeto se cercate su youtube o se cercate su qualche sito troverete sicuramente dei pezzi dei dei brani della musica napoletana che sono straconosciuti tra i prodotti tipici della regione ricordiamo i salumi i formaggi come la mozzarella di bufala famoso in tutto il mondo ma quella napoletana è particolarmente buona i prodotti pomodori i limoni la pasta e la pizza ho detto quella napoletana ma volevo dire quella campana perché tutti questi prodotti non sono esclusivi di napoli anche se è la città più grande ma sono particolari e hanno sicuramente un gusto diverso conosco parecchi amici stranieri che quando mi raccontano che sono andati in italia mi dicono siamo andati a napoli abbiamo mangiato la pizza o il pesce o la pasta più buona in vita nostra quindi provate se avete l'opportunità di muovermi e di poter viaggiare andare in italia provate ad andare assaggiare i prodotti della regione campagna perché sono veramente veramente straordinari bene la lezione è terminata molto semplice molto breve quattro cose però importanti per focalizzarci sulla regione campagna che abbiamo visto oggi come sempre vi chiedo un like sul canale dove mi state seguendo siamo su facebook su twitter su youtube ovviamente instagram e pinterest aggiungerò come dicevo i loghi a questa questa schermata vita per tutti punto blog spot punto com lo vedete nella nella nel logo se avete domande siamo sempre contenti di rispondervi con i nostri tempi ovviamente perché abbiamo sempre un po di arretrati e dobbiamo preparare i testi per le nuove lezioni con i collaboratori che se avete domande se avete dubbi se avete richieste sia sulla lingua che sulla cultura o avete delle proposte di nuovi video e noi cerchiamo sempre di salutare tutti anti anzi ringrazio chi propone perché è patrimonio di quello che poi rimane a voi stessi che state guardando questo fateli 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 perché siamo a vostra disposizione bene vi ringrazio ci vediamo alla prossima lezione di italiano per tutti ciao